Bene, però quella crescita dell'Europa non può che essere a sud, non può che essere attraverso il mare, non può che essere attraverso il mar Mediterraneo. E Trieste in questo contesto diventerà inevitabilmente il porto principale dell'Europa continentale. Per approvvigionare l'Europa continentale, per consentire di esportare i propri prodotti verso i continenti della crescita, verso l'Africa, verso il Medio Oriente, verso il Sede Asiatico, verso la Cina, questa sarà la via. La via dei mercanti e diventa anche, come qualche d'uno, le vie dell'India, o meglio dell'India, con il recente accordo del nuovo corridoio che dall'India e dal sud-est asiatico, attraverso la penisola arabica, porterà nel porto di Trieste, o di Genova, o di Marsiglia, comunque nei porti mediterranei, la nuova direttrice che l'Occidente sta costruendo col sud-est asiatico e col mondo arabo, come alternativa alla via della seta cinese. Ma lo sbocco è sempre lo stesso. E lo sbocco è questo porto e questo mare.